Noi oggi abbiamo ufficializzato una realtà, un movimento che a Macerata era già iniziato in occasione della campagna elettorale per le comunali dello scorso marzo. Lì fu un movimento spontaneo di giovani, quindi ragazzi e ragazze che intorno alla figura di Fabio Pistarelli avevano cominciato finalmente ad aprirsi la città, quindi ad aprirsi le problematiche. Fu un'occasione per tutti per avere più a cuore la città, per capire i problemi, per apprezzare anche le eccellenze. Quindi siamo partiti da questo, da un movimento che lì era spontaneo e in questi mesi, nonostante la scompetta elettorale, come avevo detto in conferenza stampa, non ha miniamente intaccato questa nostra forza di stare insieme, siamo riorganizzati per arrivare oggi, ufficialmente, il 9 novembre 2010, a ufficializzarsi alla città come Gruppo Giovani Italia, che non è altro, come ricalcando il PDL a livello nazionale, l'unione tra le due realtà giovanili, quella di Forza Italia Giovani e di Azione Giovani, quindi due partiti che si sono uniti e in un momento di confusione, possiamo dire così, quindi di difficoltà, magari a trovare proprio una referenza importante a livello politico, per noi era proprio importante ribadire questo, che nel territorio noi non guardiamo quello che succede a Roma, che nonostante ci dispiace per quello che succede, noi non lo guardiamo, ma qui ci tiriamo sulle maniche e lavoriamo. E lavoriamo con le modalità che sono contro in un gruppo giovanile, cioè stando sul territorio. Noi cominceremo da domani, sabato 20 novembre, a volantinare, a fare attività di volantinaggio per Macerata, quindi a portare una tematica, abbiamo scelto come tematica principale per partire nella nostra attività, che è quella dello sport. Quindi domani faremo un volantinaggio, coglieremo tutti i ragazzi che insieme a noi vorranno condividere questo processo che, oltre che di valore, è anche un processo di cambiamento per Macerata. Grazie a tutti.